L'attimo decisivo, il fumetto che attraverso la mediazione di voi insegnanti, il prossimo 13 ottobre verrà presentato e consegnato a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado d'Italia, è un progetto del Dipartimento della Protezione Civile ideato e realizzato come una nuova declinazione della campagna Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Perciò, per comprenderne appieno il senso e gli obiettivi, è proprio dai non rischio che bisogna partire. Il sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo. Questo tipo di conoscenza, per essere realmente utile, richiede un livello di approfondimento che sfortunatamente non può essere trasmesso con un semplice spot radiofonico o televisivo. Non solo, in realtà conoscere un rischio di per sé nemmeno basta. È necessario acquisire una certa consapevolezza al riguardo. In tutti i contesti internazionali si parla pertanto della necessità di diffondere e alimentare la risk awareness, ovvero la consapevolezza del rischio. In ambito di protezione civile, infatti, la consapevolezza non implica soltanto il sapere, ma anche il saper agire. E non è difficile capirne il perché. Ed è proprio questo saper agire, il core business di Io non rischio. Ma vediamo nel dettaglio che cos'è Io non rischio. Si tratta, appunto, di una campagna di comunicazione e consapevolezza del rischio, nata nel 2011, promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ANPAS, Associazione Nazionale Pubblica Assistenze, RELUIS, Consorzio Interuniversitario dei Laboratori di Ingegneria Sismica e Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Mondino Raggio Ambientale. In accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ma per comprendere pienamente di cosa parliamo quando parliamo di Io non rischio, conviene leggerne il manifesto che ne definisce l'identità e gli obiettivi, sia per far meglio comprendere al pubblico che cos'è e di cosa tratta, sia per garantire la massima coerenza interna tra le varie attività e iniziative che caratterizzano questa campagna. Il manifesto Io non rischio è suddiviso in sette paragrafi, ognuno dei quali si concentra su altrettanti aspetti fondamentali. Uno, che cos'è? Due, di cosa si occupa? Tre, su quali basi? Quattro, a chi si rivolge? Cinque, con quale modello comunicativo? Sei, per fare cosa? Sette, quando? Ogni paragrafo ha un titolo. Se prendiamo ciascuno di questi sette titoli e li mettiamo assieme, otteniamo una vera e propria formula sintetica capace di raccontare Io non rischio in un'unica frase. Ma vediamolo insieme. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica. Io non rischio mira ad accrescere la consapevolezza sui rischi naturali e causati da attività umana, a cui siamo esposti come individui e comunità, e a promuovere azioni e comportamenti per prevenirli o ridurne le conseguenze sulle buone pratiche di protezione civile. Io non rischio attraverso attività di informazione e sensibilizzazione promuove la diffusione delle buone pratiche, cioè di azioni concrete, per la riduzione del rischio e contribuisce alla creazione di una cultura di protezione civile nel nostro Paese. Sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo e capire come funziona la protezione civile è fondamentale per la sicurezza di tutti, basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzione. Io non rischio è una campagna promossa dal servizio nazionale della protezione civile, caratterizzata da un ruolo di primo piano del volontariato organizzato e dal coinvolgimento diretto della comunità scientifica attraverso la collaborazione e il confronto costante con le istituzioni nazionali e territoriali, che si rivolge a tutti. Io non rischio si rivolge a chiunque si trovi sul territorio italiano. Promuove iniziative, strumenti e linguaggi per coinvolgere il più ampio numero di persone senza distinzione di età, istruzione, condizione fisica e sociale. Riconosce il valore dell'inclusione e della diversità, considera la contaminazione una ricchezza e resta sempre aperta a nuove connessioni e collaborazioni, con messaggi chiari e riconoscibili. Io non rischio promuove un modello comunicativo improntato alla chiarezza per veicolare informazioni scientificamente corrette in modo semplice e alla portata di tutti. È una campagna polifonica ma caratterizzata da un'identità formale e sostanziale, in cui ogni iniziativa della campagna è progettata per essere riconoscibile e coerente sia sul piano visivo sia nei contenuti. Per trasformare la consapevolezza in azione. Io non rischio mette al centro il ruolo attivo che ciascuno di noi può assumere nella prevenzione e riduzione del rischio, agendo prima che si verifichi una calamità. Le nostre scelte quotidiane a livello individuale, familiare o di comunità possono fare la differenza, aumentando la sicurezza per noi e per chi ci sta intorno. 365 giorni l'anno. Io non rischio è una campagna permanente che vive tutto l'anno. Ogni attività e iniziativa io non rischio aspira a essere un paragrafo di un racconto più grande da scrivere insieme, giorno dopo giorno. Leggiamo adesso la formula sintetica mettendo assieme i titoli dei sette punti. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile, basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti con messaggi chiari e riconoscibili per trasformare la consapevolezza in azione 365 giorni l'anno. L'attimo decisivo è una declinazione di io non rischio, rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado. Avendo definito la consapevolezza come un saper agire, ovvero come un sapere in azione, narrazione e storytelling sono da sempre la modalità che preferiamo per comunicare con le persone e attivarle. Le storie hanno intrattenuto, educato e ispirato l'umanità per millenni, suscitano le nostre emozioni, le canalizzano, accendono la nostra immaginazione, ci commuovono e letteralmente ci spingono all'azione, ispirandoci al cambiamento. I fumetti, nello specifico, sono un ottimo modo per raccontare una storia. Con la loro combinazione unica di parole e immagini offrono un'esperienza visiva e narrativa coinvolgente. Questo linguaggio visivo tende ad attrarre sempre più giovani lettori e lettrici, catturando la loro attenzione e stimolando la loro immaginazione. Inoltre, questo strumento di comunicazione unico permette di affrontare argomenti complessi in modo accessibile utilizzando immagini, simboli e dialoghi incisivi. Pienamente in sintonia con le tendenze di comunicazione della contemporaneità, negli ultimi anni i fumetti stanno registrando un forte interesse da parte del pubblico e non solo nella fascia d'età che qui più ci interessa, segnando una continua crescita nel settore editoriale sia in termini di vendite sia in termini di reputazione letteraria. Per molto tempo relegati a prodotto culturale di serie B, i fumetti si sono adesso guadagnati il rispetto non solo dei lettori più attenti ma anche del mondo letterario e sono ormai considerati semplicemente come una diversa forma di letteratura. Così abbiamo coinvolto due apprezzati professionisti del fumetto, Mattia Surros e Roberto Gagnor, rispettivamente disegnatore e sceneggiatore, e abbiamo realizzato una vera e propria graphic novel con l'obiettivo di coinvolgere le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado nella lettura di una storia che fosse capace di ispirarli. La storia narrata nell'attimo decisivo ruota attorno a quattro protagonisti, Katia, Carlo, Samira e Paolo. Sono ragazzi e ragazze della stessa età degli studenti a cui ci rivolgiamo, molto diversi tra loro sotto quasi tutti i punti di vista tranne uno. Tra di loro non si conoscono nemmeno, vivono le loro vite in posti e contesti lontani, hanno caratteri e ispirazioni differenti ma a un certo punto della vicenda. Sono tutti e quattro chiamati ad affrontare lo stesso misterioso e temibile avversario che si fa chiamare l'equazione e che li costringerà a diventare consapevoli e ad agire per salvare se stessi e le persone che hanno attorno. Come vedrete nella storia c'è poco altro. Non ci sono indicazioni esaustive circa i comportamenti corretti da adottare durante un'emergenza, se non quelle strettamente necessarie allo sviluppo della storia stessa. Così come non troverete tra i balloon di questa graphic novel tutte quelle informazioni essenziali e necessarie per acquisire la conoscenza di cui abbiamo bisogno per affrontare uno specifico rischio. Volevamo che la storia di Katia, Carlo, Samira e Paolo non fosse percepita dai lettori come un pretesto per trasferire loro informazioni e ci siamo premurati di architettare il fumetto in modo da preservare il più possibile quella sospensione dell'incredulità necessaria a mantenere vivo e ininterrotto il flusso della narrazione allo scopo di favorirne il coinvolgimento. Ed è attraverso il coinvolgimento che puntiamo ad attivare l'attenzione e la curiosità dei nostri lettori per poi accompagnarli al necessario approfondimento attraverso prodotti specifici, prodotti multimediali. La particolarità di questa pubblicazione, infatti, è che pur trattandosi di un prodotto di carta è allo stesso tempo un oggetto multimediale. Nel fumetto i lettori troveranno cinque QR code posizionati nella storia in altrettanti momenti decisivi ed è inquadrando questi QR code con i loro dispositivi che i lettori potranno estendere l'esperienza cartacea del fumetto attraverso delle videochiamate simulate con i quattro personaggi, nel corso dei quali Katia, Carlo, Samira e Paolo forniranno ulteriori informazioni sul rischio in questione e sulle buone pratiche di protezione civile necessarie ad affrontarlo. Naturalmente, accedendo al sito web www.ionorrischio.gov.it sarà possibile approfondire ulteriormente il tema sfogliando il libretto Ionorrischio, per esempio, ovvero una pubblicazione che raccoglie tutte le cose essenziali che bisogna sapere sui rischi fin qui trattati dalla campagna. E accedendo alla sezione dedicata al fumetto, i lettori potranno anche trovare in futuro altri contenuti multimediali e perfino conoscere meglio i protagonisti della storia, perché l'altra particolarità dell'attimo decisivo è che sarà progressivamente e costantemente arricchito di nuovi contenuti. E chi lo sa, forse anche da nuove puntate della storia. Ferma restando la sacrosanta libertà e autonomia di cui gli insegnanti devono godere nel loro approccio didattico, abbiamo pensato che potrebbero comunque tornarvi utili dei suggerimenti sul modo di gestire in classe la lettura del fumetto, anche in base al modo in cui esso è stato pensato e progettato. La prima modalità l'abbiamo chiamata in media stress. Potrebbe essere interessante avviare la lettura condivisa della storia senza troppi preamboli, per evitare di far attivare alcuni possibili bias o pregiudizi dovuti all'argomento proposto, si parla comunque in fondo di affrontare rischi e calamità che possono mettere a reventaglio la vita. Una volta distribuito il fumetto ai presenti, si potrebbe così avviare una prima lettura, per così dire immersiva, senza troppe spiegazioni preliminari e senza soffermarsi sui QR code quando se ne incontrano. Una volta giunti alla fine, l'insegnante avrebbe a quel punto il compito di illustrare il contesto, raccontando modalità e finalità dell'iniziativa e riconducendola alla più generale campagna di non rischio. Successivamente si potrebbe ripartire dall'inizio e fare adesso una rilettura critica e partecipata del fumetto, soffermandosi stavolta su ciascuno dei QR code e organizzandosi per inquadrarli con un dispositivo mobile, aprire i link e guardare i video in ordine uno a uno. Per evitare di creare confusione in realtà, l'ideale sarebbe poter visionare i video con un unico terminale, se la dotazione in classe lo consente, proiettandolo magari sulla list o utilizzando un tablet. In alternativa si potrebbero creare dei gruppi, contenendo quindi il numero dei dispositivi attivi per limitare fastidiose sovrapposizioni sonore. Ma possono esserci tante modalità alternative. L'insegnante che lo preferisse potrebbe naturalmente partire illustrando l'iniziativa e contestualizzandolo subito il tutto. E naturalmente sarebbero altrettanto possibili dei metodi ibridi, magari prevedendo una lettura iniziale solo della prima parte, arrivando alla tavola in cui appare il primo QR code e poi avviare una contestualizzazione magari partecipata lasciando i lettori in un piccolo stato di suspense prima di proseguire. Come vedete gli approcci possibili sono davvero tanti e i nostri vogliono essere soltanto degli esempi al solo scopo di fornirvi spunti che speriamo possano esservi utili. Pertanto vi ringrazio di avermi seguito fin qui e mi accingo a salutarvi augurandovi buon lavoro. Ma prima di farlo lasciatemi dire che il vostro impegno quotidiano e la vostra dedizione con i giovani studenti sono una fonte di ispirazione per tanti di noi che lavorano nel campo della divulgazione e anche di questo, soprattutto di questo, vi ringraziamo.